Ma cosa sta succedendo? Sta succedendo di tutto, mercato, novità di formazione, ne parliamo in questo video, ma prima di iniziare, capocce mie, buon pranzo a tutti, mi raccomando il vostro sostegno è una cosa fondamentale, like al video, commentate, condividetelo con gli amici, soprattutto iscrivetevi al canale, raggiungevi i miei iscritti nel miglior tempo possibile, attivate la campanellina, correte anche a iscrivervi al canale di Dome, Bette e Iosipiosef, due grandi cuori rossoneri, con cui condivido l'insieme di dirette e l'angolo rossonero ogni martedì alle ore 17.30, quindi andate nei vostri calendari e cerchiate ogni martedì, sottolineandolo come cazzo volete, ore 17.30. Allora, 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 partiamo subito dalla partita di stasera, una partita da non sottovalutare perché io stasera, diciamo è la prova della verità, è la prova della verità, vediamo se il Milan l'ha svoltato da un punto di vista di testa, vediamo se il Milan veramente darà importanza soprattutto al campionato, che è un obiettivo importante, senza snobbare perché di partite quest'anno, per colpa della Champions, in campionato abbiamo snobbate parecchie, veramente, ma veramente tante, mi viene in mente quella con la Cremonese, la Fiorentina, proprio veramente, partite buttate, punti buttate, a quest'ora arrivavamo in Champions così, eravamo così, porca miseria, maledetti a voi, ma detto a voi intesi giocatori, no a voi, figuratevi cosa posso avere contro di voi, Ma, parlando della partita di stasera, Pioli è intenzionato a rivoluzionare tutto, in difesa, ovviamente, confermatissimo, Mike Magnani in porta, da sinistra a destra, Teo Hernandez, Tomori, Ciao, che si prende il posto di titolare al posto di Chier, per far rifiutare il nostro Principio Azzurro, sulla destra giocherà a Calabria, centrocampo, Ben Assertonali, e qui ci sono le grandi novità, Leao non al meglio, ieri si è allenata a parte per colpa di una fastidiosissima contrattura, quindi al momento viene dato come titolare, Rebic a sinistra, esatto, redio di cittadinanza Rebic, trequartista, incredibilmente, ragazzi, Krunic in panchina, io non lo so, io ieri, magari, Pioli aveva 41 di febbre, mi sembra strano che possa mettere il suo figlio in panchina, mi sembra strano, perché ormai i legami di parentena ci sono tutti, ovviamente Krunic ha giocato bene, ragazzi, scherzo, però ha fatto ridere anche ieri, seguendo la conferenza stampa, la domanda su Krunic, era molto toccato, perché ha detto, non mi interessa, se non è un giocatore che dà nell'occhio, ci sono tutta una serie di cose da guardare nel calcio, che non sia ovviamente il dribbling, soprattutto la fase di non possesso, fa rendere al meglio chi li gioca vicino, un po' come Casemiro del Real Madrid, ovviamente scherzo, ragazzi, mi lincio da solo per questo paragone, uccidatemi, scherzo, però ha fatto proprio capire questo, per lui è un jolly fondamentale, perché fa rendere tutto il reparto di centrocampo al meglio, e detto questo, al posto di Krunic giocherà Tommasino Pobega, che non si rivede dal 15-18, con a destra Selme Kerr, e qui, ragazzi, mi volevo ammazzare, perché deve giocare a CDK, fortunatamente ieri, un giornalista ha fatto una domanda molto intelligente, ha detto, ma, vedendo che CDK a destra fa sempre bene, perché non pensare a CDK in quella posizione, e lui, praticamente, ha detto, ovviamente può ricoprire quella posizione, ovviamente è una cosa importante, ovviamente non avrà problemi di adattamento, ci mancherebbe, dato che caro Stefano Pioli lo ricopre dalla notte dei tempi nazionali, quel ruolo, e come punta, ragazzi, sembra titolare Orighi, ora, a me, onestamente, mi sembra un turnover eccessivo, mi fa benissimo che mi fai riposare Giroud, però, ragazzi, qui stiamo mettendo quattro giocatori che non hanno mai giocato insieme, e quando è così, rischi, speriamo che, insomma, l'Empoli non sia nella sua serata migliore, e speriamo che noi, come atteggiamento, perché parliamoci chiaro, se noi entriamo in campo con l'atteggiamento giusto, Leao o non Leao, Giroud o non Giroud, noi la partita la vinciamo con l'Empoli, porca miseria, se noi entriamo in campo un po' così, ciondolanti, ci finisce un pochettino come l'Inter la partita, ok? Perché l'Empoli comunque è una squadra che gioca a calcio, è una squadra che ha giocatori interessanti come Baldanzi, è una squadra giovane di talento a cui piace giocare, quindi non è una squadra sottovalutare, assolutamente no. Detto questo, ragazzi, seconda parte del video, bagarre, Leao, chi la paga la multa, la paga il giocatore, la paga il papà, la paga il Milan, no, attenzione, questa mattina, o meglio, partiamo con ordine, ieri sera è arrivato un'indiscrezione abbastanza odorevole da parte di Moretto, un giornalista spagnolo che spesso e volentieri ci azzecca, e aveva detto che il Milan era intenzionato a pagare la multa facendo rinnovare Leao per 5 milioni l'anno e non 7. Questo cosa significa? Significa che risparmi quei soldi che sommati agli anni di contratto ti andavano a far pagare la multa, addirittura questa mattina dice che la cifra non è di 19 milioni perché il ricorso del Lille è stato respinto, quindi si parla di una cifra divisa tra il giocatore e il Lille, si parla di un 60% di 19 milioni che dovrà pagare il Lille, l'altro 40% che dovrà pagare Leao. La cosa più importante è che addirittura stamattina record giornale portoghese rilancia l'indiscrezione secondo cui il Lille si farebbe carico di pagare l'intera multa chiedendo ai giocatori una piccola rinuncia delle mensilità, insomma chiedendo un'aiuto ai giocatori ben disposti di darlo. A me questa cosa onestamente puzza, non perché magari non sia possibile, forse il Lille magari ai tempi ha forzato un po' la mano per tesserare Leao contro i regolamenti cifra eccetera, non lo sappiamo ok, però o c'è una cosa di questa per cui il Lille si sente il carbone bagnato e vuole pagare la multa oppure ancora si potrebbe paresare un intrallazzo, un intreccio di mercato tra il Milan e il Lille perché il Lille ha un giocatore molto importante ovvero David, Jonathan David, attaccante di una classe immensa, punta centrale del Lille, giocatore che il Milan ha seguito per tanto tempo, quest'anno è esploso onestamente la valutazione che leggo e intorno ai 60 milioni mi sembra una cosa un po' fuori dal normale, però ecco si potrebbe impostare la trattativa in maniera diversa, magari Lille dice guarda io ti pago la multa di Leao però tu mi compri David al prezzo che dico io ma a condizioni vantaggiose, magari un prestito biennale con obbligo di riscatto oppure prestito con obbligo di riscatto pagamento plurinale, insomma una situazione del genere, una situazione ventilata del genere, magari il Milan il giocatore si lo paga quei 50-60 che vuole Lille, non va a contrattare però loro ci tendono la mano per quanto riguarda la multa, non lo so però mi sembra una cosa molto ma molto strana onestamente, fatemi sapere cosa ne pensate voi sia della formazione che vuole mettere in campo più lì stasera e sia soprattutto di questo intercce di mercato, ovviamente ragazzi non vi dico che rinnovare Lille sarebbe fondamentale perché ti prendi il migliore esterno della Serie A, ti rimane ancora in Italia almeno un anno, puoi puntare allo scudetto deciso l'anno prossimo con un mercato importante, dovessimo andare in Champions avanti quindi arrivando alle semifinale al Milan del Napoli ci sono altri 15-20 milioni in più, ragazzi il mercato quest'anno si fa veramente importante, veramente interessante, c'è da fare una rivoluzione, l'indiscrezione è che praticamente in questo momento sembra averla meglio e che il Milan vuole prendere italiani, io dico fossi Paolo Maldini, prendere italiani sì, forti sì, ma non abbiamo la della al naso, se ci fanno pagare un italiano 30 milioni quando in realtà ne vale 15 andiamo all'estero, purtroppo il mercato italiano è totalmente drogato in questo momento, si parla che il Milan voglia ritentare per Zaniolo, si parla di un inserimento nella trattativa tra Frattesi e la Roma, ecco Frattesi lo prenderei prima di subito se vogliamo giocare col centrocampo a tre perché è un calciatore importantissimo, prenderlo, classe 99 come mezzala barra trequartista muscolare, tanta ma tanta roba, ecco giovani forti sì, italiani meglio, però ripeto non abbiamo l'anello al naso, non ci dobbiamo far prendere per rincoglioniti perché non siamo il cesto di turno che prende Potter, lo butta, poi prende Lampard, altri soldi, cucurella, 80 milioni non si può sentire, detto questo ragazzo vi ringrazio per essere stati qui con me, mi raccomando, like al video, commentate, condividetelo con gli amici, soprattutto iscrivetevi al canale, lasciate tanti commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, bella raga, a presto!